Danilo D'Alessandro, siamo il vincitore del Mondiale Uniones, una grande emozione e continua ad arrivare a successi per te. Sì, è vero, un grande traguardo per cui ho lavorato anni, dal 2015 che provo ad arrivare a questo titolo e finalmente dopo anni e anni di lavoro è riuscito ad arrivare, dopo vari italiani, europei, finalmente il duro lavoro paga. Questo può essere forse il colonamento di un lungo percorso, anche la possibilità di essere un trampolino di lancio verso nuovi obiettivi? Senz'altro, senza altro. Questa diciamo che non la uso come punto di arrivo, come punto di partenza, anche se è una piccola raggiunta di un sogno. C'è stato un momento a cui hai praticamente capito che poteva essere vittoria? Beh, fino all'ultimo non si pronuncia perché comunque c'è una giuria, si è nelle mani loro tra parentesi, però l'aspettativa c'era diciamo, ecco. A chi vuoi dedicare questo successo? Beh, sicuramente alla mia famiglia, che mi è stata vicino durante tutto il percorso e la dedica a loro. Ora c'è qualche altro sogno nel cassetto che vuoi cercare di esprimere, di coronare? Beh, sicuramente l'anno da junior, se quest'anno finisce, quindi un grande sogno sarebbe riconfermarmi nelle categorie tra parentesi dei grandi. E quindi tanti successi per te. Cosa ci sarà adesso nel proseguimento della stagione? Il proseguimento della stagione è adesso un breve periodo di relax, di ripresa. Ricarichiamo le batterie e poi sicuramente ci saranno altri appuntamenti autunnali che fisseremo un po' più avanti, tra cui sicuramente Mr. Universe.